Ciao a tutti ragazzi oggi qua, però comunque vi prego vi iscrivetevi, vi prego iscrivetevi, comunque ragazzuoli adesso questo qua è il tour della nostra stanza, è stata di me e mio fratello, tanto pu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu che gazzantina, vergognoso, ok, qui c'è l'appel watch, ragazzi comunque non sono un cacchio perché poi c'è questa scala scala tu dovresti resti in un altro posto la spuzzerò dopo comunque adesso qua le dicono tutte le cose dice cluedo aspetta se riesco a farlo vedere meglio questo comunque anche un altro giochetto che fa un po schifo comunque qua ci sono tutti i libri faccio vedere da lontano così si mette a fuoco ok mette a fuoco adesso qua ci sono videocassette di film qua mi sa cosa c'è anche quello che neanche l'abbiamo fatto io il mio fratello lego questo qua l'ho preso al mare non posso farvelo vedere bene e qui comunque c'è l'altra la tartaruga ninja sto qua il mcdonald il fuccilotto ragazzi qua qua dentro ci sono videocassette anche qua anche qua e adesso vi do un piccolo spoiler di cosa c'è fuori della mia casa vi do un piccolo spoilerino un piccolissimo spoilerino ovviamente questa qua è la finestra ti prego mettimi a fuoco ok non so però non devo farvi vedere la luce se no poi non mi mette mi sfoca tutto questi qua fanno dal dolcello ce li hanno dati questo qua di mio fratello questo qua invece è mio e ce l'hanno dato la natalia in 2017 due anni fa quindi questo qua un po' pozzetto invece qua ragazzi ci sono altre cose aspettate così non potete vedere bene se lo sprecco un po' di tempo e invece qua ecco qua ecco qua ecco qua aspettate aspettate un attimo porca puttana questo qua dovrebbe essere un video family friendly allora questo qua è il pikachu che me l'hanno dato l'ho preso su amazon bellissimo bellissimo il costume di charizard veramente bello e il capucetto è il capucetto è fuori ok e questo qua è il mio letto qua ci dormo io mio fratello dorme qua e questo qua è il poster di dragon ball e poi ah questa qua è la sedia mappa manga cosa questo qua sono le foto dell'uomo park questa qua è del 2014 che bei tempi e adesso che vi posso dire ragazzi ah vi ridico vi prego iscrivetevi perchè a prima ero molto depresso non voglio essere ripresso in questo video visto che voi lo iscrivete quindi dai che voglio 5 pollicioni in su per questo tour questa porta la casa farò vedere tutta la casa più avanti quindi ma non fra tantissimo tempo quindi credo fra un mese oppure anche di più o anche di meno si lo sa così dove metterci sono tutti i vestiti ah questo qua è di natale questo qua mi sa che era del 2015 o 2014 non me lo ricordo del natale comunque del natale del 2014 o 2015 non me lo ricordo per niente però era tra quei due anni credo ok questa qua è la stampante non so nemmeno parlare che cacchio raga per sto video è tutto per questo per questo vi faccio un tutto 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 era bellissimo faccio un piccolo tour ancora meglio più a un 15 di carica ok così adesso ragazzuoli questo video finisce qua e concludo con la porta e ciao ciao ciao